Si capisce l'affetto degli atleti nei suoi confronti, perché Giovanni parla la lingua dello sport, non parla il politichese, parla la lingua dello sport, chiama tutti gli atleti per nome, anche atleti che io non conosco, e quindi questo affetto e questo rispetto, soprattutto nei confronti degli atleti, che sono un po' sempre l'ultima pedina, cioè in fase organizzativo, federazioni, tutte queste macchine così molto politiche, gli atleti sono un po' l'ultima pedina, e quindi lui invece li mette nello stesso piano, e questo secondo me è molto riconosciuto dalla parte degli atleti.